L'incantesimo sul denaro è da sempre un argomento affascinante e misterioso. Molte persone sono alla ricerca di metodi per attirare abbondanza e prosperità nella propria vita e l'utilizzo di incantesimi è una delle vie che si sono rivelate efficaci nel corso dei secoli. In questo saggio esploreremo un incantesimo sul denaro particolarmente semplice ma potente che richiede solo pochi elementi e pochi secondi del nostro tempo. L'incantesimo che andremo a descrivere richiede l'uso di lavanda, un sacchetto e sette diverse forme di denaro. La lavanda è una pianta associata alla prosperità e all'abbondanza, quindi la sua presenza in questo incantesimo contribuisce ad amplificarne l'efficacia. Per iniziare, prendete il sacchetto e metteteci dentro del denaro. Potete utilizzare qualsiasi forma di denaro vi sia più congeniale, come monete, banconote o altri oggetti di valore simbolico. Una volta messo il denaro nel sacchetto, è importante cospargerlo con la lavanda. Questo gesto simbolico ha lo scopo di caricare il denaro con l'energia della prosperità. La lavanda, con il suo profumo delicato e rilassante, agisce come un catalizzatore per attrarre l'abbondanza nella nostra vita. Ora che il sacchetto è pronto, è necessario portarlo con sé per sette giorni consecutivi. Durante questo periodo, è importante mantenere una mentalità aperta e positiva nei confronti dell'abbondanza. Visualizzatevi circondati da denaro e immaginate la prosperità che desiderate manifestarsi nella vostra vita. È importante mantenere la fiducia nell'efficacia dell'incantesimo e restare aperti alle opportunità che potrebbero presentarsi. L'incantesimo sul denaro, che abbiamo appena descritto, è un metodo semplice ma efficace per attrarre l'abbondanza nella nostra vita. Ricordate che l'energia che mettiamo in un incantesimo è fondamentale per il suo successo. Mantenete una mentalità positiva e fiduciosa e siate aperti alle opportunità che si presenteranno. L'incantesimo del denaro può essere uno strumento potente per creare una vita di prosperità e abbondanza. Prendetevi il tempo per sperimentarlo e osservate i cambiamenti che si verificheranno nella vostra realtà finanziaria. Anche per oggi è tutto. Sostenete il canale iscrivendovi, mettendo un like e condividendo. Grazie e a presto. Solo contenuti gratuiti per tutti.